Perché lui qua aveva, oltre ad essere innamorato dell'idea, perché quando io l'ho invitato, la prima volta ovviamente ero sicuro che mi dicesse di no. Quando poi gli ho raccontato come funziona il festival, che noi siamo una periferia, che abbiamo difficoltà spesso a far capire le cose fondamentali della cultura e del vivere culturale, e gli ho detto con questo festival noi stiamo cercando di smuovere un po' le acque in collaborazione con artisti, i ragazzi dell'XQ, tanti musicisti, tanti poeti, io mi ho detto ma io dove Sassari non l'ho mai, non avevo idea che esistesse un posto come Sassari. Allora vengo, e quando lui mi ha risposto io vengo, me l'ha scritto via email, io ho stampato la mail, l'ho ingrandita, me la sono incorniciata, perché pensare ad andare a balla Sassari era davvero una follia, e c'era pronto tutto il teatro, solo che quando fai i conti con, quando non fai i conti con l'età, magari non metti in conto possibili acciacchi dell'ultimo momento che creano gli imprenditi, però a Rabal c'è lo stesso.